Ciao a tutti, oggi prepariamo un meloncello, è un liquido chiamato meloncello. Usualmente mangiamo un piccolo copo di questo dopo il mattino o dopo il lunch. Lo troverete in Italia, è molto comune, specialmente nel sud. Usualmente mangiamo questo nel settore. Se non puoi trovare questo nel tuo paese, puoi provare a prepararlo nella tua casa. Quindi, seguendo la ricetta, ora vedremo gli ingredienti. Ah, se ti piace, mi lasciate un molto grande, mi piace. Useremo un po' di melone, un quarto di alcol, a un quarto di alcol, un numero di alcol, un po' di melone, un po' di melone, 250 g di gara, in questo caso, io userei un po' di melone, un po' di melone, e un po' di melone, ora, prima di tutto, finiremo per pulire il melone, e lo metteremo in l'alcol. Ok, ora, ora, cerchiamo il nostro contenitore, e lo metteremo in un posto scuro, per una settimana. Ci vediamo la prossima settimana. Sicuramente, questo lo metteremo, non lo metteremo. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao! Dopo una settimana, metteremo il nostro melone in un po' di melone, aggiungeremo il zucchero e il vanilline, e metteremo tutto sul foglio. Il nostro obiettivo è creare un sirope. Quando il sirope sarà pronto, aggiungeremo la crema. Ora che abbiamo messo sul foglio, torniamo il foglio. Quando il sirope è pronto, quindi, se cerchiamo, non possiamo trovare il zucchero, questo significa che il sirope è pronto, torniamo il foglio e aggiungiamo la crema. Ora aspetteremo 20-30 minuti, perché il sirope è troppo caldo, bisogna aspettare che il sirope sia un po' caldo, e dopo aggiungeremo tutto. ora che il sirope è diventato caldo, filtreremo l'alcol, mixeremo il melone, e dopo aggiungeremo il melone. In fine, mixeremo tutto insieme. A presto. 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 Ora che abbiamo messo il meloncello nella nostra bottola, metteremo la bottola nel frizzero e testeremo questa domanda quando sarà molto freddo. Vi vediamo domanda. Ora che è molto freddo, proviamo. Molto molto bello, posso sentire davvero il meloncello. Quindi provate, per favore non si tratta molto di questo perché è molto alcol. Aggiungere il tuo meloncello. Questo è davvero il style italiano. Vi vediamo la prossima. Ciao ciao! Ciao ciao! 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 Ciao!